Io vi ho già riunito e credo che vi ho già detto una cosa triste, a me mi dispiace però io non posso fare altrimenti perché le banche non mi finanziano niente, i fornitori dicono che mi hanno perso sul bilancio e hanno tolto i filti. Automaticamente i clienti, gli enti pubblici pagano due anni e qui non hanno più liquidità per fare i matanessi costi. Allora io avrei già pagato, proprio dipende di licenziare qualcuno per ridurre i costi perché pure la cassa integrazione non la mantiene di più. Cioè io ho già ridurro qualche personale, ma non so come devi fare, mi dispiace. E se magari, senza togliere nessuno, siamo tutti normali, ci defalchiamo noi qualche ora dallo stipendio? Il nostro corso è un po' della crдеonina, è un po' della propiettia. Grazie per la visione che ci serve. Grazie per la visione. Grazie per la visione.